salve a tutti e a tutte e benvenuti a questo nuovo appuntamento dei dialoghi di pandora rivista conversazioni con ospiti diversi ogni puntata per approfondire le linee di interesse della nostra rivista oggi siamo qui con un ospite assolutamente d'eccezione il presidente romano prodi che ringraziamo tantissimo per io vi ringrazio e per aver accettato il nostro invito insomma non ha davvero bisogno di presentazioni due volte presidente del consiglio presidente della commissione europea presidente dell'iri prima ministro dell'industria economista ha insegnato a bologna negli stati uniti in cina e ha lavorato ha collaborato anche con una missione onu e unione africana appunto sul pace keeping e appunto è un onore per noi poter dialogare conversare con lui in questo appuntamento e partiremo in questo caso dal suo più recente libro strana vita la mia uscito per l'editore solverino un libro scritto insieme al giornalista marco ascione che appunto un libro che ripercorre questa vita appunto strana ma straordinaria ricchissima appunto di esperienze di diverso tipo e seguendo il filo conduttore appunto di questa vita proveremo ad approfondire diversi aspetti e diverse questioni durante questa conversazione e iniziamo subito dopo la sigla presidente anzi già qui c'è una prima questione perché nel libro a un certo punto viene sottolineato appunto come lei venga chiamato presidente a roma professore a bologna onorevole al sud e già questo in un qualche modo da un segno appunto di questa di questa di questa vita in cui si sono intrecciati e sommati appunto percorsi diversi ecco io partirei appunto proprio da questo titolo strana la mia ecco in che senso strana perché questo questo aggettivo a cosa a cosa lo associa quali sono gli elementi principali che hanno suggerito questo titolo? Prima di tutto qui siamo al centro di bologna e non mi chiamano professore ma prof punto no è strana è strana davvero perché in fondo la passione politica c'era fin da ragazzo studiava economia eccetera 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 ma gli avvenimenti che lei ha elencato nel curriculum sono arrivati tutti per caso sono diventato ministro perché c'era un casino nella politica italiana non sapevano mettersi d'accordo hanno detto prendiamo un tecnico dall'esterno e quale è stato l'inizio? Liri era una situazione di bilancio assolutamente intollerabile confusione lì a Liri e a Leni hanno preso me a Liri ecco invece la campagna elettorale e l'idea di lanciare l'univo quella non è stata per caso ma era un'idea fissa politica che io avevo e ho ancora perché non è ancora di impiuta che questo paese debba avere stabilità politica debba avere una coalizione di centro-sinistra una coalizione di centro-destra si giocano ogni cinque anni la responsabilità del governo nel paese ha stabilità e purtroppo questo non avviene non è avvenuto penso che nel tempo di fronte a noi difficilmente avverrà e io sono rimasto mai l'unico quasi l'unico a volere assolutamente il maggioritario perché è l'unico che dà stabilità tra l'altro noi l'abbiamo anche visto poi col governo dei comuni era un problema di crisi continuate adesso abbiamo una stabilità nelle città c'è chi governa bene c'è chi governa male ma abbiamo la stabilità ecco ecco facendo appunto un passo indietro e partendo appunto da in parte dalle primi passi appunto di di questa storia ecco appunto da un certo punto di vista vorrei provare a proporle una considerazione che in un qualche modo mi è stata suggerita anche dalla lettura del libro sicuramente appunto ci troviamo di fronte a una vita strana e straordinaria appunto che ha messo in fila una serie di passaggi assolutamente del massimo rilievo al tempo stesso è stata una vita che in un qualche modo è stata anche resa possibile in un certo senso da un determinato contesto storico da un da una situazione in cui appunto al passaggio dell'università poi in un qualche modo si è affiancato l'impegno politico e con anche tutta una serie di di collegamenti di mediazione lei ricorda come anche l'incarico di ministro dell'industria arrivò anche qui appunto quasi per caso in conseguenza del fatto che lei partecipò ad alcuni convegni nei quali appunto fu notato e poi questo le creò questa ecco in un qualche modo anche pensando all'oggi che poi questo lo chiedo perché è anche una questione su cui la nostra rivista in un qualche modo si interroga e certamente forse oggi ci sono anche dei percorsi dell'opportunità di formazione importanti per le nuove generazioni ma non è forse venuto un po a mancare questo tessuto connettivo che esisteva che teneva insieme istituzioni appunto percorsi formativi lei poi parla anche dell'iri ovviamente quindi anche del ruolo che aveva l'iri nella formazione appunto dei nuovi manager della classe dirigente ecco e oggi un percorso del genere forse sarebbe meno possibile di allora e cos'è venuto meno in un qualche modo se è venuto meno ovviamente a suo parere riportò meno tutto cioè attenzione con tutti i problemi compreso problemi etici c'era un diremmo così un curriculum di chi faceva politica si partiva dalle parrocchie o dalle cellule del partito comunista socialista eccetera ma c'erano luoghi di formazione spontanea in cui la selezione o la formazione di gruppi avveniva e la stessa cosa era in fondo nel sindacato dove c'era tuttora in politica dei partiti si è persa completamente ma non abbiamo non c'è più aperta seriamente una serie di un partito i parlamentari non hanno più non hanno più l'ufficio in provincia dove minimamente si svolgeva anche un attività se vogliamo un po' di protezione paternalistica ma in cui c'era un rapporto con con la politica oggi questo non c'è assolutamente e direi che la colpa io l'attribuisco molto ai partiti al cambiamento della società tutto quello tutto quello che volete però i partiti si sono allontanati per loro colpa cioè la non applicazione dell'articolo 41 della costituzione che obbliga partiti e sindacati a organizzarsi democraticamente e lo dice la condizione e quindi avere tutto lo statuto trasparente avere le regole d'ingresso le regole d'uscita non aver fatto questo si vale mai stata una colpa di fatto alla sua domanda rispondo oggi non c'è allora è venuta l'epoca dei fenomeni anche in parecchi altri paesi negli altri paesi però c'erano adattamenti costituzionali eccetera uno tra i fenomeni cioè i partiti o le persone che escono all'improvviso e poi in un mattino spariscono dando ulteriore discontinuità a un paese che aveva già discontinuità perché i presidenti del consiglio cambiavano ogni anno però rimaneva salda almeno una struttura di fondo adesso cambiano i leader e cambia la struttura di fondo ecco secondo me bisogna ricostituire questi curricoli questi ambienti in cui si formano i leader c'è un vantaggio adesso che su questo ci sono tante riflessioni spontanee cioè la crisi ultima delle cinque stelle eccetera ha messo la gente più sospettosa di fronte agli eventi improvvisi chissà che questo non ci aiuti a ricostruire una società in cui ci si parla ecco ripartendo un po appunto da questo dialogo e quindi stando ancora un po sulle prime fasi appunto del suo percorso e appunto a partire dalla sua attività di economista come ricordavo poi lei è passato diciamo anche in un qualche modo dall'altra parte cioè appunto a determinare le politiche prima come ministro dell'industria e poi come presidente dell'IRI ecco ovviamente poi c'è stata una considerazione molto negativa diffusa nell'opinione pubblica del ruolo dell'industria di stato no però in un qualche modo ovviamente diciamo posti gli aspetti negativi che appunto sono a tutti noti qual era invece sia in un qualche modo dal suo punto di vista di studioso sia poi da quello che ha avuto modo di fare appunto in questo caso soprattutto come presidente dell'IRI che appunto ha svolto inizialmente per un periodo lungo di tempo insomma poi una seconda volta con un mandato diverso e ecco qual erano diciamo anche da un punto di vista positivo gli aspetti che l'industria di stato svolgeva in quel sistema economico italiano per come era configurato quindi anche in una complementarietà con gli altri elementi dalla piccola media impresa alla grande impresa familiare quali erano effettivamente gli elementi in un qualche modo che poi forse sono venuti a mancare in cui c'era effettivamente un ruolo positivo e utile dell'industria di stato e alla luce di questo poi come secondo quali linee strategica ha cercato di agire appunto da presidente dell'IRI ma l'industria di stato ha svolto un enorme compito soprattutto quando è nato è nato quando il paese dopo la crisi del 29 viene in sfascio e quindi l'industria pubblica l'ha riaccorpata poi si è dato un ordine nel portare avanti i settori che dovevano essere trainanti se lei pensa l'Italia che allora si chiamava l'Italia davvero pensi le autostrade, pensi i telefoni, pensi la riorganizzazione del sistema bancario, le banche interessi nazionali cioè il compito era rimettiamo insieme un paese e soprattutto nei settori in cui occorre avere una dimensione forte e una politica a livello nazionale allora e questo lui lo faceva poi ci sono state anche tantissime deviazioni ed è quello che l'ha messa poi in crisi la prima deviazione è stata quella di espandersi troppo verso settori come il famoso discorso del panettone di stato in cui non era cosa che ci fosse dietro lo stato e poi anche rapporti di connivenza stretta con la politica qui la debolezza si è dimostrata molto forte poi è venuto la direttiva politica opposta quando io sono andato a dire la seconda volta il governo mi ha detto bisogna privatizzare perché la nuova regola europea è la privatizzazione e lì il problema non è stato Liri è il problema del capitalismo italiano che io ho privatizzato rigorosamente secondo le regole si è cercato perché tra l'altro le regole erano anche queste di avere il maggior introito per lo stato e possibilmente vedere l'interesse del paese e quindi avere un nuovo proprietario italiano e lì è stata la grande debolezza dell'Italia il capitalismo italiano ha avuto in mano queste imprese e le ha uccise cioè rivendute, fatto speculazioni e lì si è sciolto un patrimonio perché poi sono anche andate in fumo determinate strutture indispensabili per il paese che erano vicine a Liri quando io penso ad esempio ogni anno avevamo un centinaio di allievi che erano l'élite dei nuovi paesi proprio la crema della crema della crema della crema e quando sono andato al governo mi trovavo come ministro ex allievi dell'IRI cioè avevamo, questo è solo un esempio, avevamo anche una funzione nazionale pensiamo all'infap, a tutte le scuole per manager eccetera e tutto questo è assolutamente scomparso nel nulla capisco, era difficile fare altrimenti, anzi impossibile fare altrimenti perché queste erano le nuove regole ma a me in fondo è dispiaciuto disfare quello che avevo riorganizzato però un manager pubblico obbedisce alle direttive non al giochino del singolo partito ma alle direttive del paese e retrospettivamente secondo lei quello in un qualche modo era un esito obbligato dico da un punto di vista generale no, nel momento in cui è stato fatto era obbligato nessuno poi pensava, pensiamo alla storia della STET l'incoscienza con cui i nuovi azionisti l'hanno gestita pochi eventi come le autostrade eccetera e su questo nessuno poteva prevederle l'unica alternativa è darle in mano tutto al capitalismo straniero ma qualcuno a posteriore potrebbe anche pensare che sarebbe stato meglio sotto certi aspetti io no, non lo penso perché credevo che ci fosse un'energia vitale maggiore nel nostro sistema economico ma alla storia non si può dare uno strumento diverso da quello che è necessario in quel momento peraltro nel libro racconta anche interessante le pagine in cui racconta il suo rapporto con Cuccia insomma, comunque è in generale un libro davvero interessante anche per tutti gli aneddoti anche che vengono riportati che poi si legano comunque a una trama complessiva quindi è una lettura davvero interessante anche questo elemento del legame tra formazione della classe dirigente e visione internazionale poi il tema della visione internazionale poi ci ritorneremo è un filo che attraversa tutto il libro ecco poi appunto è venuto il momento del suo impegno politico più diretto io su quello parto da una considerazione un po' trasversale un po' obliqua direi più che trasversale lei ha raccontato in varie occasioni di un suo viaggio se non sbaglio in Giappone in cui le era stata posta la domanda se lei avesse potere o autorità e appunto raccontando questa cosa in riferimento agli ultimi anni in un qualche modo mi è venuta leggendo il libro anche la riflessione che anche nei momenti in cui lei insomma ha avuto un potere piuttosto significativo diciamo nei diversi ruoli in cui l'ha ricoperto e in un qualche modo questo del resto è detto anche alla fine del libro il metodo basato sul dialogo sempre cercato un po' di declinarlo in una forma in cui da un lato ci fosse questo elemento comunque di collegialità di dare spazio a diverse sensibilità e poi comunque questo si lega anche alla questione dell'avere o meno una forza propria quindi volevo partire dal chiederle una riflessione diciamo su questo rapporto con il potere con il modo di esercitarlo ecco ma qui il problema è abbastanza è abbastanza complesso no? cioè io ritenevo che nel nostro paese che mancasse proprio una continuità nel potere no? quella che è necessaria in politica in questi giorni abbiamo giustamente celebrato la Merkel no? ma quando è arrivato il potere tutti dicevano ma questo non vale nulla il primo anno è stato faticosissimo poi con la continuità con è assegnato un'epoca in Italia noi abbiamo sempre avuto un cambiamento di governo una discontinuità che non ha mai permesso l'idea di pensare di lungo periodo già tutto il capitalismo pensa a breve ma in Italia si pensa quasi alla giornata perché nessuno sa che cosa ci sarà tra qualche mese no? ecco questo ha cambiato la testa degli italiani è il problema fondamentale che ha cambiato la testa degli italiani e mi siamo ancora vittime mi siamo ancora vittime adesso speriamo tutti che Draghi scelga la presidenza della Repubblica scelga di rimanere la presidenza di Consiglio ma che aiuti avere questa continuità ma è assolutamente indispensabile ed è anche e vede perché l'Urivo mi stava così a cuore perché io avevo scritto allora che l'Italia era l'unico paese diviso in due dal muro di Berlino cioè il muro di Berlino divideva due paesi in Germania ma in Italia comunismo e anticomunismo dividevano solo paesi e che era necessario ricomporre questo mettendo insieme i riformisti da un lato e i conservatori dall'altro con l'ugual dignità sfida ogni cinque anni sistema maggioritario e rifacciamo il paese normale e le vicende che noi abbiamo avuto tutte le leggi elettorali che si sono rincorse hanno impedito questo che era un passaggio naturale e che noi dobbiamo cercare di fare di nuovo io sono l'ultimo dei moicani sono rimasto maggioritario a oltranza ma se noi avessimo avuto ai suoi tempi la legge elettorale francese saremmo un paese altro che la Francia altro che la Francia ecco quello che è stato quando ho scelto nel momento in cui non è avvenuto per caso l'avvenimento quello che è stato dopo la prima campagna elettorale la mia scelta un paese con alternanza democratica tranquilla operativa ed è ancora quello che noi dovremmo perseguire mentre invece vedo che si preferisce avere un parlamento eletto e gestito dall'alto con problemi veramente di non avere una classe dirigente di riferimento questo è quello che penso sia la grande crisi italiana e per il resto il paese dimostra una vitalità se vuole lo chiami anche spirito di sopravvivenza ma quando io penso che non ha neanche una grande impresa una quantità di piccolissime imprese è esagerata più piccole imprese di Spagna e Germania messe assieme con una bassissima produttività e abbiamo un attivo nella bilancia commerciale significa che abbiamo un paio di migliaia di medie imprese che sono spettacolo che sono spettacolo allora il paese la vitalità potenziale ce l'ha ce l'ha ecco anche la prima fase appunto della della sua azione di governo quando appunto per la prima volta è diventato presidente del consiglio da un punto di vista diciamo del della tendenza generale si inseriva diciamo in quella che era vista come una fase espansiva in un certo modo della globalizzazione di una certa visione della globalizzazione in seguito in un qualche modo è emerso come poi ci fossero anche alcuni aspetti problematici insomma che la globalizzazione ha portato con sé ecco su questo quale riflessione ha maturato nel tempo c'erano cose che allora non si vedevano ci sono state appunto del sono mancati in un qualche modo le possibilità di costruire a livello globale ad esempio degli strumenti di governo della globalizzazione stessa si mette nei panni di allora era esplosione del reganismo totale il motto era quello della taccia non esiste la società ma solo individui tutta la politica il 95 per cento della politica italiana mi spingeva alla privatizzazione immediata rapida totale e il governo pure a questo punto voglio dire adesso dicono eh ma abbiamo privatizzato troppo in fretta oh è vero è vero però questo era l'orientamento politico ma tutto il mondo si è pentito ma ci sono voluti 30 anni per pensare a ricostruire un nuovo equilibrio per l'aumento enorme delle disparità che solo da 10 anni sono nei testi accademici no? e oltre a questo per la crisi in cui la finanza ha fatto un botto dal 2008 in poi ecco ci voleva questa crisi grossa per far ripensare a un nuovo equilibrio fra privato e pubblico in cui nessuno vuole ritornare a dire no? questi fantanni ma in cui alcune grandi direttive debbano far conto con l'interesse generale questo è il cambiamento del quadro naturalmente c'è un altro elemento che nessuno confessa ma che è la sfida cinese la sfida cinese pone un bel problema perché quando un paese si trova fuori da determinati obiettivi che sono di interesse generale diventa un problema io tra l'altro facciamo un esempio ma il vaccino del covid ma contro il covid è arrivato in fretta perché il presidente più sfegatatamente pro mercato eccetera eccetera ha dato una quantità enorme di denaro alle case farmaceutiche perché perché facessi il farmaco perché di fronte all'interesse nazionale il paese ha reagito in modo razionale ecco questo dimostra come dobbiamo veramente ripensare a questi aspetti e come alcune sfide mondiali riporti il ruolo dello Stato diverso ovviamente non è più proprietario gestore ma incentivatore promotore dell'aspetto scientifico che sta a monte di determinate iniziative industriali cioè con un ruolo completamente diverso dello Stato però lo Stato esiste questo è l'insegnamento degli ultimi anni ecco lei ha evocato appunto la Cina infatti io volevo arrivare subito dopo lì che ovviamente diciamo è uno dei protagonisti degli attori di questa storia e volevo chiederle appunto da un lato se pensa che ci sia stata in parte appunto negli anni una sottovalutazione diciamo da parte dell'occidente delle sue classi dirigenti diciamo magari una difficoltà di comprendere culturalmente appunto un attore di questo tipo e poi se in un qualche modo adesso nella situazione nella situazione attuale lei ha parlato molte volte appunto di una situazione in cui da un lato se ci sono effettivamente dei cambiamenti in importanti sui fronti delle politiche interna e delle politiche economiche ad esempio negli Stati Uniti di Biden permane ovviamente invece una forte frattura sul piano della politica internazionale ecco lei in un qualche modo nel suo libro cerca sempre di declinare un po' un discorso che insiste molto sull'importanza di costruire il multilateralismo quindi la seconda domanda è se lei pensa che oggi ci sia spazio in un qualche modo per un'opzione del genere in questo contesto mondiale come ci troviamo ora il primo aspetto della domanda si è stato sottovalutato sottovalutato certo perché perché ma io stesso dicevo ma quanto può durare la Cina col dinamismo e guarda che noi coliri siamo andati in Cina negli anni 80 e quindi quando ancora ma aveva un tal cambiamento di ritmo che tutti ci siamo posti il problema per quanto può durare è il problema che ci si pone anche adesso no? abbiamo tutta una serie di osservatori che dice i corpi rigidi sono poi quelli che si spaccano più in fretta però finora dal 78 che c'è stata la rivoluzione di Deng Xiaoping a oggi non si è spezzato e questo è stato un elemento inatteso che ha ma la seconda la ragione anche di perché è stata sottovalutata è perché siamo tutti nati non solo con l'idea della superiorità del sistema democratico in questo sono d'accordo ma anche col fatto che sostanzialmente non ci fosse nulla al di fuori del sistema democratico e si è trattata la Cina con un al di fuori che non esisteva quando ci si è accorti che è molto recente che le cose procedevano in un certo modo la Cina stessa era cambiata cioè io nei rapporti con la Cina quando ero Presidente del Consiglio o quando ero Presidente della Commissione Europea cioè dal 96 al 2008 io ogni anno incontravo il Presidente cinese perché erano gli incontri di protocollo e era interessante perché alla fine non è che gli dicessero che volevano diventare democratici però avevano il senso che noi rappresentassimo un'avanguardia del mondo in fondo qualcosa di importante e la Cina quando è diventata una potenza ha assunto l'atteggiamento imperiale cioè l'impero agisce come un impero e allora Xi non dice più ma in fondo voi dice no no noi siamo come voi dite che il vostro sistema è unico il nostro sistema è veramente unico noi consegniamo molto più di quello che non consegnate voi noi abbiamo un rischio di sviluppo e una aggregazione di centinaia di persone e allora ecco questo è quello che cambia il mondo tutto il mondo guarderà a noi e non a voi ed è cominciata la sfida mortale la grande sfida e finora se pensiamo all'aumento di autoritarismo negli ultimi dieci anni nel mondo c'è da star serie e le Filippine e la Turchia e la Russia e l'Asia centrale e il Brasile e metà degli stati africani che noi eravamo così contenti che avevano abbracciato la democrazia quelli che sono stati eletti democraticamente si trasformano in dittatori e non vogliono più andare via disobbedendo la costituzione che li ha portati al potere cioè attenzione che adesso la sfida dell'Unione Sovietica era una sfida militare perché economicamente è infatti economicamente un disastro questa sfida cinese è una sfida globale e questo che non abbiamo ancora capito e qui il capitalismo deve dare il mondo democratico scusami il mondo democratico deve darsi una mossa ed è per questo motivo che io sono così insistente su una democrazia che risponde, che agisce Tra l'altro appunto con una situazione negli Stati Uniti che abbiamo visto insomma anche con l'epilogo della presidenza Trump anche lì mostra qualche segno di difficoltà Tra l'altro è interessante anche in riferimento appunto a questo dialogo che lei ha portato avanti nel tempo con molteplici interlocutori appunto la Cina ma anche la Russia poi più recentemente il rapporto con gli stati africani tra l'altro c'è una frase molto significativa che lei menziona tutti sono capaci di parlare con San Francesco il problema è parlare col lupo e quindi questa è una cosa molto interessante È il riassunto del libro quando mi dicono ma parli con i giudatori oh ragazzi ecco qui il mondo è quello che è il problema è difendere le proprie idee E in tutto questo poi c'è il tema che è un altro ovviamente dei fulcri della questione che è il ruolo dell'Europa un ruolo che in un qualche modo avrebbe potuto essere secondo la sua visione in un qualche modo quello spazio che in un qualche modo si inseriva in questo contesto e favoriva il dialogo tra appunto le potenze diverse magari anche impedendone quello scontro che in parte e quali sono appunto a suo avviso le ragioni per cui questo finora appunto non si è realizzato o quantomeno non del tutto insomma l'Europa non ha dispiegato pienamente le sue potenzialità è perché l'Europa è un pane cotto a metà come io oso dire cioè non è buono se non lo cuociamo del tutto quindi le nostre divisioni sono la causa dei nostri mali attenzione passi in avanti oltre ad aver ricostruito un continente e fatto cose meravigliose e fatto l'euro la moneta comune eccetera eccetera un passo in avanti negli ultimi anni nel campo dell'economia l'abbiamo fatto come diceva Monique era un bel tipo perché veniva dal commercio di liquori ed era geniale e come dicevamo l'Europa fa salti in avanti nelle crisi quando è venuto il Covid ci si è accorti a cominciare dai tedeschi che non era più colpa se le cose andavano male degli italiani dei greci del nostro godimento della vita eccetera ma che veniva la grandine non si poteva incolpare il vicino in secondo luogo la Brexit questo è un discorso laterale che introduco ma con la Gran Bretagna dentro solidarietà non se ne parlava in terzo luogo e qui vediamo il discorso dell'Europa da completare è che il mondo dell'economia germanico ha capito che la Germania non poteva giocare un ruolo mondiale da sola ma solo insieme all'Europa nella politica non abbiamo fatto questo passo in avanti siamo fermi lì l'esercito non se ne parla e politica estera vediamo cosa succede in Libia è un passo da noi la Sardegna è più vicina alla Libia che al continente italiano eppure non contiamo nulla e comandano due paesi Turchia e Russia la Turchia compro la traccia dell'oro della Spagna la Russia compro la traccia dell'oro dell'Italia anzi un po' meno e allora la risposta è la divisione che ancora abbiamo dove siamo uniti facciamo il grande salto in avanti dove siamo uniti eppure basterebbe pochissimo cioè io ripeto come un pappagallo quasi se i francesi non governassero perché la politica l'economia in mano la leadership è tedesca in politica è francese perché solo loro hanno il diritto di veto la cosa di sicurezza solo loro hanno l'arma nucleare se loro avessero il senso della politica e dicessero questo è a servizio dell'Europa poi magari l'ambesciatore a Londra dovrà essere sempre francese tutte le regole che volete e la Francia ne uscirebbe rafforzata e l'Europa finalmente fa politica ecco su tutto questo in un qualche modo la pandemia quali linee di tendenza ha impresso a questa situazione? la pandemia ha cambiato la concorrenza mondiale e quindi deve adattare cioè globalizzazione ancora perché poi succedono cose strane tensione Stati Uniti e Cina fortissima lotta tecnologica il problema delle telecomunicazioni sotto sotto si commercia alla grande i porti di Los Angeles che non riescono non sono in grado di ricevere tutta la merce che arriva dalla Cina qui abbiamo paradossi e in questo mondo capisci l'Europa dovrebbe avere un grande controllo in quanto è ancora un grandissimo produttore siamo ancora no, siamo stati superati adesso da numero uno della produzione industriale nel mondo però siamo ancora ai vertici ma abbiamo l'incapacità di decidere la parola che ci paralizza è una sola unanimità con unanimità non andiamo da nessuna parte e adesso sto approfittando anche dei rapporti bell'accordo fra Italia e Francia avere un accordo anche con la Germania includere la Spagna e cominciare a fare l'Europa più velocità voglio dire se stiamo fermi stiamo morti non andiamo avanti tutti e vabbè se ci mettiamo assieme Spagna, Francia, Italia e Germania e gli altri seguono nei piedi polacchi sono sono gli anomali d'Europa no? con l'Ungheria poi va a fare un'inchiesta statistica e vede che il 90% quando si chiede vuoi rimanere in Europa no? il 90% dice di sì allora andiamo pure avanti ecco e lo star fermi è quello che ci uccide ma se noi andiamo avanti guardi che nel mio nella mia testa non penso mica un'Europa potenza militare mondiale eccetera quello che basta per essere potenza regionale per poter lavorare con quello che io chiamavo l'anello degli amici cioè dal nord fino a tutto il Mediterraneo fino al Marocco avere con Israele con la Siria avere in fondo un'area di pace garantita da noi a questo ci dobbiamo arrivare poi lascia che si scroci lo Stato Unito e Cina per il privato mondiale e cerchiamo di metterci una parola buona ecco grazie davvero e per andare appunto anche verso la conclusione della nostra conversazione e lei conclude in un qualche modo il libro sotto il segno un po' di questo concetto che in parte si è emerso nella discussione di democrazia fragile e quindi tornando appunto in parte anche all'Italia però mantenendo anche questo sguardo mondiale perché comunque la difficoltà della democrazia come abbiamo visto è un fenomeno generale ecco e questa fragilità della democrazia da cosa deriva e da dove bisognerebbe in un qualche modo anche ripartire per provare in un qualche modo a mettere in campo degli anticorpi insomma delle degli elementi appunto di ricostruzione di un tessuto più forte più solido non è che ci vuole una democrazia operante no? quando vedo voglio dire che non si usa neanche più l'antitrust quando ho cominciato i miei studi si studiava addirittura la dottrina americana diceva che il governo deve stare attento a controllare la grandezza di per sé cioè neanche se un'impresa abusava ma se era troppo grande per che i suoi interessi mettessero a rischio gli interessi della collettività oggi abbiamo cioè il potere è passato al mondo della finanza e al mondo dell'economia senza un dialogo col potere questo è il primo grande è il secondo luogo è il distacco della gente dai partiti o negli Stati Uniti dal potere politico insomma no? e qui c'è poco da fare la democrazia funziona si fa funzionare il popolo come si diceva un tempo no? io sono uscito a vincere le elezioni non avevo soldi non avevo nessuno eccetera ma con mesi e mesi coinvolgendo decine e decine di migliaia di persone ecco secondo me la democrazia si salva con la democrazia se vogliamo papagallare la Cina e gli altri e poi bisogna trovare un modo di convivenza perché con questo veramente termine ma la gente non capisce i drammi della storia cioè quando dici ma la Cina in Africa eccetera noi dobbiamo lavorare in Africa per avere il pluralismo su questo continente ma il fatto che la Cina vada verso l'Africa ecco sono il 20 per cento della popolazione mondiale il 7 per cento delle terre coltivate ragazzi ma la politica estera loro la hanno il sangue la devono assolutamente fare il problema è che noi siamo abbastanza forti e uniti per regolarla questo è ma ripeto la democrazia se non affronta queste sfide è messa male per quello che io un libro sulla mia vita la chiudo con la paura della debolezza della democrazia e la speranza che la democrazia si rimetta in sesto grazie davvero presidente Prodi grazie a tutti quelli che hanno seguito questa conversazione questo dialogo e vi do appuntamento alla prossima puntata dei dialoghi di Pandora rivista grazie grazie a lei dell'invito grazie per aver guardato questo video e se l'avete apprezzato e se trovate interessante il lavoro di Pandora rivista potete mettere like al video qui sotto potete iscrivervi al canale YouTube in modo da essere aggiornati su tutti i nuovi aggiornamenti su tutti i nuovi video e contenuti che verranno pubblicati ed è anche un modo per sostenere il progetto grazie a tutti